Meglio tardi che mai, sarebbe il caso di dire, ti si aspettava Foggia già da tempo, ci arrivi ancora adesso, però credo che sia davvero confermato quello che era un po' il tuo obiettivo da un qualche mese a questa parte. Erano sei mesi che si andava avanti con questa storia e finalmente si è coronato il mio sogno di venire in una squadra, in una società, ma soprattutto in una città molto bella che sicuramente mi porterà tanta gioia e so quello che voglio dare. L'attaccante si esalta con le piazze calde di solito, cosa sai della piazza di Foggia dal punto di vista del tifo? Io penso che un ragazzo come il di Palermo soprattutto si riscalda col sud, questa è la verità, che al sud è diverso rispetto al nord per questa cosa, che il calore che danno le squadre al sud non si è mai visto da nessuna parte e Foggia è quella. Hai parlato di Iemmello con il quale hai avuto modo di giocare assieme, con il quale c'è anche molta amicizia a quanto pare, che cosa ti lascia in eredità a Iemmello? I gol, quello è molto importante, soprattutto per un attaccante, per me segnare è molto importante, però far segnare pure agli altri e vincere la partita 1-0 è pure bello. Il Foggia ha avuto qualche problema in fase di realizzazione, anche se crea molto, avete avuto modo di vedere il gioco che attua il mister, il 4-3-3 piuttosto aggressivo, piuttosto arrembante. Tu come ti inserisci in questo contesto, nel senso che hai trovato, vedendo il Foggia, magari per televisione, la possibilità di dire io in questa squadra mi ci trovo bene? No, no, mi trovo bene perché vedo dei ragazzi che col calcio sanno fare e posso dire che mi possono mettere in condizione di fare gol. Dall'Akragas al Vicenza hai fatto il grande salto di categoria, adesso hai fatto un passo indietro, ma per rilanciarti? Per rilanciarmi no, ma per dare una dimostrazione che si può vincere un bel campionato e portare avanti questa società. Da qui alla fine, nel tuo sogno, quanti gol ci sono? Immaginavo questa domanda, spero di concludere con un bel bottino, ma il mio obiettivo non è i gol, il mio obiettivo è portare la seconda lettera dell'alfabeto avanti. Ecco, che per scaramantia non se lo vuol dire. Non lo dico.